Ci aspettiamo comunque una reazione positiva, ci aspettiamo soprattutto che negli stadi ritornino le famiglie, ritornino i ragazzi. E' poi l'obiettivo che c'eravamo posti. Prima MAPEI ha investito molto perché ci crede. Noi con l'acquisizione dello stadio eravamo consci di aver fatto il primo passo, ma subito dopo, nelle nostre previsioni, c'è il secondo, che sono investimenti notevoli, ma investimenti che di sicuro dovrebbero avere un ritorno a livello di immagine, ma un ritorno soprattutto a livello di frequentazione degli stadi da parte dei giovani. Questo è il vero obiettivo. Sì, diciamo che è un po' il progetto che il gruppo MAPEI, nel momento in cui è stato acquistato lo stadio, vuole portare avanti. Per cui il progetto di poter far sì che la gente si avvicini sempre di più, che è la possibilità di poter portare famiglie, bimbi e di vivere un pochettino il calcio in modo un pochino diverso da quello che di solito si vive. Ma io credo che i lavori e la proprietà ne ha fatti molti, ne farà altri. Posso dire che oggi lo stadio è veramente un vero gioiellino, ma tutto questo per far sì che i tifosi, il pubblico, la città di Reggio possa avvicinarsi sempre di più e magari anche la possibilità di poter ospitare altri eventi importanti, cosa che già quest'anno ne sono stati fatti, ospitando il Trofeo Team, ospitando la Nazionale e così via. Ma siamo molto fiduciosi in questo. Da quando siamo arrivati qui a Reggio la collaborazione con la Reggiana c'è stata, c'è e ci sarà. Per cui la volontà, anche in questo caso, come dicevo prima, la proprietà MAPEI, ha voluto far sì che queste cose venissero condivise tra tutte e due. Noi ne siamo felici perché siamo molto contenti. Infatti auguriamo sempre un boccalupo alla Reggiana, visto che abbiamo incontrato il mister poco fa.